Io credo che a questi ragazzi occorra trasmettere un'idea di legalità che non è giudiziaria, non è superficiale, non è celebrativa, non è liturgica, è un'idea di legalità che parta dalla vita quotidiana, anche dal modo in cui occorre sapere reagire alle forme di bullismo a cui spesso si assiste facendo finta di nulla, una legalità intesa come scelta di normalità in una terra in cui il peso della criminalità organizzata e anche di una sorta di pedagogia mafiosa è ancora molto forte e quindi credo che la scuola sia il punto di partenza per un ragionamento che poi li accompagna nella vita adulta un po' più forte, un po' più strutturata. Grazie a tutti!